Ed eccoci qua ragazzotti, finalmente sulla Nightfall Quest'oggi vi porto questa demo, la mod comunque verrà lì lasciata da quel che hanno detto dopo l'uscita di Elder Ring Quindi dobbiamo aspettare un pochino Il 21 febbraio hanno rilasciato questa demo di 1 giga e qualcosina che ci mostra due zone Mostri, moveset delle armi, equipaggiamento e boss fight moddata del tutto nuove Quindi sono curioso di provarla insieme a voi New game Andiamo a scegliere la classe Allora, come nome, piccola cheat Apposto così Tra queste classi iniziali ragazzotti spiccano questi armor set veramente spettacolari Sono tutti abbastanza alti in endurance Tranne forse lui che probabilmente è la classe per intelligenza Quindi una sorta di stregone Sono bellissimi i modelli 3D Guardate questo, che figata Il paladino di Karim si nota anche dall'armatura con l'abbraccio simile a quella del vecchio Lothrak Ok, vado sul classico, quindi Royal Knight anche per la mia affezione a Demon's Souls Stavo notando però che per esempio questo qui, questo personaggio Che non è un mago puro, quindi 24 in it, però non ha negli slot, nei 3 slot neanche una magia Quindi o in questa demo non sono disponibili o le troveremo più avanti Però per adesso io vado sul classico Royal Knight Con 20 in forza e 14 in destrezza Quindi una quality decente Come dono iniziale, raga Abbiamo pendenti ovunque Ci dovrebbe essere anche un intro Vai Bellissima Credo che la scena finale sia una sorta di armatura molto particolare Non si capiva bene Comunque mi pare di aver visto la spada di Avoval Quella di DS3 Si parte da qua Forse per chi ha già visto il vecchio video saprà 12 ceneri rimanenti Ok, questo è una sorta di countdown Abbiamo un tempo limite Sono queste ceneri Io non ho capito se ci sta correndo dietro qualcosa Se noi stiamo correndo dietro a qualcuno Mi hanno detto al Chosen Undead Perché questa mod è dopo gli eventi Parla degli avvenimenti dopo la fine del gioco Con il finale Lord Oscuro Quindi senza vincolarsi alla fiamma Lasciandola spegnere Ed uscendo dalla boss fight di Gwyn Quindi dovrebbe essere il finale, diciamo, oscuro E noi dovremmo in qualche modo Ricorrere le gesta Le tracce del Chosen Undead Che ha lasciato morire la fiamma E quindi dobbiamo vedere che cosa è successo La cosa molto carina È che oltre a questo bellissimo incipit narrativo La mod stravolge completamente Il modo in cui si affronta A livello di combattimento del gioco Guardate che fiata Se metto l'arma a due mani Si trasforma in questa forma oscura E si acquistano poteri sovrannaturali Il personaggio diventa molto molto più veloce nelle schivate Imprevedibile, velocissimo C'è tantissima tantissima cura nei dettagli E devo dire che ci si diverte parecchio ragazzotti Il gameplay, il combat system è molto molto più frenetico rispetto al solito Perché oltre al dash che è praticamente preso copio e incollato da Sekiro Il nostro personaggio ha anche attacchi con i tasti a sinistra del pad Quindi il dorsale sinistro Per chi usa ovviamente il joystick Sul tastiera non so dirvelo Però se giocate da tastiera siete un po' stronzi Quindi facendo un bellissimo L1 Succede questo E va in combo ragazzi La combo continua avendo stamina L'L2 A fondo Che si concatena a questo bellissimo salto Che dovrebbe essere qualcosa di molto simile all'attacco che fa Artorias Quindi abbiamo gli attacchi classici Leggero e pesante Ovviamente tutto comba Più quelli a sinistra Con l'L1 e l'L2 Quindi abbiamo un pochino più di varietà Tutte queste cose vanno in combo con la schivata Vanno in combo con i tasti a sinistra Quindi si può fare una via di mezzo Una combo veramente fighissima Addirittura unita dei calci E quindi oltre all'incipit narrativo molto bello C'è anche un grosso cambiamento a livello di combattimento A livello di gameplay Abbiamo due forme Forma normale dove l'arma è imbracciata in questa maniera classica Con lo scudo a sinistra Mentre la forma sprite Quindi la forma diciamo fantasma oscura Con triangolo si attiva mettendo l'arma a due mani E quest'altra Il personaggio in questa forma diventa molto più veloce e pericoloso Possiamo però curarci solamente quando siamo in forma normale Quindi nell'altra fase saremo più pericolosi Ma potremmo curarci almeno da quel che ho visto in questa mod Soltanto con determinati oggetti La nostra Estus che abbiamo raccolto qui Sopra questo ricettacolo mai distrutto dalle radici Ovviamente sono eventi successivi alla fine del gioco E corrotto sembrerebbe dall'abisso È la Umbrus Effigy Questo oggettino qua Quindi è una sorta di radice contorta In una forma di qualcosa di dimenticato Una radice di Lord Vessel Quindi del ricettacolo Sembra mantenere all'interno del calore dei falò dei non morti Quindi questa ci cura solamente in questa forma Mentre siamo in quell'altra Possiamo utilizzare altri oggettini che dopo vi faccio vedere Però non ci possiamo curare con questo Questo qui è un segno scuro avvolto a spirare Da cui emergono delle ombre E questo è il nostro ritorno al falò Mentre qui sotto abbiamo la Prismatic Bot Una bottiglia che ci permette di incanalare il potere delle anime Delle boss fight che incontreremo L'anima stessa dopo vi farò vedere Entrerà in questa bottiglia Quest'altro oggettino ragazzotti Il pendente di Gwyn è molto molto carino È una sorta di reset per la run Se lo vado a utilizzare ricomincio da questo momento Da dove siamo partiti adesso vi faccio vedere dopo E mantiene al suo interno Essendo il pendente di Gwyn Le ultime ceneri della prima fiamma La fonte di tutte le disparità Quindi se cerchiamo di riaprirlo Succede che il tempo si riavvolge su se stesso Nel momento in cui è stato sigillato Quindi se lo vado a utilizzare Succede questo Mi porta indietro all'inizio della demo Non so se è qualcosa che vedremo soltanto appunto nella demo stessa Non ve l'ho detto ma il personaggio mantiene tutti gli oggetti accumulati Le boss fight fatte Le anime I livelli eccetera eccetera È soltanto un reset Credo per provare più volte la demo Si parte qui e stranamente Non si arriva nella fornace Ma si arriva alle rovine del demone In teoria Ecco C'è la possibilità di non prendere danno da lava Se si gioca per bene con il dash Questo è praticamente il dash di Segiro Uguale identico Nella lava Ah sto demone è venuto da me in sto giro Sacchia dè Rippato Abbiamo due vie Vi faccio vedere Questo è il falò Guardate che figata Con la spada di DS3 Laboval Sword Ci si può riposare a questa fonte È tutto su tinte viola Quindi che ricordano appunto l'abisso Anche il caricamento Qui si può livellare tranquillamente E riposare Ok andiamoci a prendere questo oggettino Un altro pendente Bene questo se lo potevano risparmiare Sembrerà strano ragazzi Perry Non so se con repost finale Anche a nemici che non sono umanoidi O che non usano armi Per esempio a questo Un nemico bellissimo del cat content di questo gioco utilizzato Col tempismo giusto che io non ho Si può fare Perry corre posto Con questo cerchio Questa animazione che in teoria Vi spiegherò meglio più avanti Ci ripristina degli HP Andiamo questo qui Polvere di scaglia di drago Questo oggettino è molto particolare Sono praticamente le scaglie di drago Del primo Souls Però frantumate a polvere Si può utilizzare E il suo effetto È che ci riduce i danni Del 50% Quindi per un breve periodo di tempo Riceviamo la metà dei danni È molto importante Perché a quanto pare Ed è una cosa che a me non è piaciuta parecchio Quando provai questa mod Tutte le armature Hanno difesa pari a 2 O a 1 Quindi attualmente noi abbiamo Per un totale Complessivo di 4 pezzi 40 physical defense Quindi bassissimo Calcolate che un personaggio Ad inizio run Su DS1 Parte con più di 60 In difesa Il piromante mi pare che abbia 73 Quindi per farvi capire Questi set qui Sono meramente estetici E ovviamente Questo è riferito Fruit of the Armor A Demon's Souls È praticamente Il cavaliere di copertina di Demon's Souls Anche la lore La sua descrizione Racconta Di un tempo in cui le anime Fluttuavano Flowing Andavano in giro liberamente Accumulandosi In Vessel In ricettacoli Potentissimi In contenitori potentissimi Non come le fiamme Ma come nebbia Ferma in colore Quindi riferimento ovviamente Alla nebbia di Boletaria E agli eventi di Demon's Souls Qui abbiamo il primo NPC Anzi l'unico NPC Doppiato Hai del lavoro da fare ad Isaleth? No Brevemente ragazzotti Lui è un piccolo assaggio Degli NPC doppiati Che vedremo nella mod Rilasciata Dopo l'uscita di Elden Ring Non si sa effettivamente Quando Non serve a nient'altro Ho provato pure ad uccidere Non succede nulla Se si va avanti Si incappa Nella lava E anche utilizzando Le scaglie di drago Si muore Quindi non serve assolutamente A nulla O almeno io Non ho scoperto Chissà quale mistero Dietro a questo NPC O alla zona più avanti Anzi addirittura Ho visto che è bloccato Quindi non si può raggiungere La zona precula Del caos Purtroppo è finita qui Ipoteticamente Questa è la seconda mod Che doppia i suoi NPC Oltre la Deconvergence Su DS3 Recover HP By attacking foe Ok Questa dinamica Ve l'ho accenata prima Se noi perdiamo Degli HP E appare quella Piccola Barra Arancione Giallognola In alta Al sinistra Degli HP persi Che in teoria Qui su questa Con questa mod Dura un pochino di più Appare E rimane per più tempo Rispetto al solito Se noi attacchiamo A modi Bloodborne Dei nemici Possiamo recuperare Questa porzione Di vita persa Soltanto quella momentanea Quindi abbiamo Un piccolo lifesteal Come appunto Su Bloodborne Mi faccio vedere Questi sono un po' troppi Però eh Quindi zacche E zacche Vediamo Vi faccio vedere Anche in questa forma Dai Non vuole? Signore? Non vuole Vabbè E allora E' un lifesteal Carino L'unico problema Ragazzi Che ho riscontrato In questa demo E che il nostro personaggio Prende troppo danno E prima Che si possa Recuperare In alta sinistra Guardate Gli HP Riesce ad uccidere I suoi avversari Perché stiamo Equivaggiando Un'arma molto potente Questa qui toglie 166 Quindi abbiamo Un attacco Di 250 Quasi E facciamo Malissimo Il problema E che prendiamo Pure troppi danni Quindi C'è questa disparità Facciamo troppo danno Uccidiamo troppo velocemente I mob E non facciamo in tempo A colpirli E prenderci Un pochino Di vita indietro È l'unico problema Che ho riscontrato In questa mod E sinceramente Non ho capito Il perché L'abbiano voluta Tenere così Con questo settaggio Con le armature Che non danno difesa Rende veramente L'avventura Molto molto più impegnativa Con questa mod In questa demo Abbiamo a disposizione Anche delle magie Che teniamo qua Delle magie consumabili Per esempio Idem Presence Questa qui È un oggetto monouso Ci permette Di utilizzare La spell Una volta Senza avere le statistiche Quindi se io faccio così Sack Anche avendo Quanto è 6 in fede E 7 in int Posso castare Roba magica È molto molto carina Guardate l'effetto Tra l'altro Di fulmini E oscurità Fuoco nero Che brucia dentro di noi Fighissimo E questo ovviamente Non si attiva Perché È Molto limitata La parte che possiamo esplorare Vai Si vola ragazzi E qui ci si diverte Il primo boss Moddato Questo l'avrete Sicuramente visto Il bristering Demon Che appare Nell'arena Del demone Di fuoco Fighissimo Come Scheletro Credo che sia Un Toro Un demone Toro Con alcuni Suoi attacchi Questo fa male Ci ha ammazzato Fa male Però guardate Il danno Che gli abbiamo fatto Qui dobbiamo colpire E fuggire Il modello 3D Di questo boss È fighi Ah Porca Questa tipologia Di Combat system Queste Movenze Ragazzi miei Stordito Bellissimo Ci permettono di essere Molto Molto Più aggressivi Rispetto al solito Perché se qualcosa Ci punisce Siamo tentati Dall'avvicinarci Colpo caricato Esplosivo Fighata Dall'avvicinarci E ricaricare Gli HP Rubando vita Il problema È che ci fanno Troppo danno Quindi Anche se mi impegnassi Al massimo Sputa anche là Sto coso Non riuscirei A ripristinare Tutti gli HP Faccio prima Ad ammazzarlo Paradossalmente Si è baffato di fuoco È veramente Bello Raga Terrificante Anche lo ST Di sottofondo Vai Poi gli facciamo Due L2 Col salto Di Artorias Guardate che figo Un secondo buff Ha preso fuoco Direttamente Occhio Occhio I segni del caos Intorno a lui Ci ha tolto Tantissimo Maledetto Ed è morto Non si è capito Niente Perché sono stato Velocissimo Ma l'abbiamo ucciso Bello Bello Olè Io volevo far questo Ma non ci sono riuscito Non ci dà direttamente L'anima Appare sotto Questa Forma In terra E possiamo Catturarla Nella nostra Prismatic Bottle Il personaggio Si inchina E la riempie Riempie la bottiglia Con l'anima Del demone Quindi abbiamo Delle informazioni Sul boss Sul nemico Attraverso questa bottiglia Non so quante bottiglie Si prendano Perché se io Dovessi affrontare Un altro Nemico Non potrei Catturare un'altra Anima Però Per adesso Si fa così Quindi abbiamo Trattenuto Nella bottiglia L'anima Del blistering Demon Che da quel che ho capito Blistering Dovrebbe essere Tipo Demone Feroce E ci racconta Brevemente Nella parte centrale Un po' Di lore Quindi I cieli Di Lordran Si scurirono Ma non guardato Nelle oscurità Di Izalith Di Izalith Le fiamme Del caos Bruciano Ancora più Brillantemente Più In maniera Accesa Avendo l'anima All'interno Di questa bottiglia Possiamo fare Due cose Una E tenerla Così com'è E portarla Attraverso Ce lo dice anche Nella parte bassa Attraverso Il tempo Con noi Per In teoria Prevenire Il fatto Che resusciti Non ho capito Che voglia Dire Secondo me Se riparto All'inizio Col pendente Di Queen Resetto La run Avendo Questo oggetto Il demone Non ripoppa Fuori Avendo la sua Anima Trattenuta Con me Quindi Non si Ripristina Quindi gioca Molto Anche Sul Il tempo I cicli Che si ripetono Il reset Eccetera Eccetera Oppure La seconda Opzione È Sacrificare Bruciare L'anima Al falò Se la offriamo Alla fonte Veniamo Teletrasportati Nel posto In cui abbiamo Sconfitto La boss fight Non ho idea Di che cosa Serva Sinceramente Però Per adesso Teniamola Così Possiamo anche Utilizzarla Se io faccio Use item La utilizza E non succede Niente Semplicemente Si svuota La fiaschetta Un altro Un altro armor set Quello del Cavaliere Runico Insieme Alla Kaiom Come diavolo Se pronuncia Quindi abbiamo Un altro armor set E anche questo Da uno Nelle difese Maledetti Loro Ah se ve lo stesse Chiedendo Il personaggio È Classico Non morto Con il segno Oscuro Sul petto Non so se Questa cosa L'andranno A cambiare Bisogna Capire meglio Cosa hanno In mente Per Per la trama Per la loro Lore moddata Ragazzi Sono eventi Successivi Allo spegnimento Della fiamma Quindi devono Devono veramente Lavorare bene Per non fare Pastrocchi Sulla trama Sui piccoli Dettagli Soprattutto perché Questa mod È una delle più Attese In teoria Io sto aspettando Anche l'Archthrons Per DS3 Però per DS1 Avendo come obiettivo Portare avanti Fanmade La trama Moltissime persone Stanno aspettando Questa mod Per vedere Come Altri utenti Fan come loro Amanti del gioco Come loro Come me che sto provando E come voi che state guardando Vedrebbero Un ipotetico Continuo Della trama In realtà il continuo Ce l'abbiamo avuto Però Vabbè Questo È tutto da scoprire E da vedere Ok Vedete Più hit Riesco a ripristinare Se avessi colpito Con l'altra spada Avrei ammazzato subito Il mostro Qui c'è Ci sono i primi segni Dell'oscurità che avanza Non so se ci fate caso Ma o se sono io Che sono diventato strabio Ma qui c'è Del viola Tra la lava Appare del viola Quindi io ipotizzo Che la corruzione Dell'abisso sia Arrivata fin qui Uts Bermone E questo nemico Che rompeva tanto le palle Nel gioco vanilla Qui diventa Una scemenza Ole Ovviamente A seconda dell'arma Si cambia il moveset Anche dell'L1 E dell'L2 Quindi gli attacchi alternativi In tutte le loro forme Figata Brevemente Regà Quello che ho raccolto è Una spell Come quell'altra Che ci ha reso Semi invisibile Utilizzabile Evoca Delle soul mass Quelle a inseguimento E a seconda di quanta Intelligenza abbiamo Ce ne crea Più o meno Io c'ho 7 Quindi in teoria Me ne crea Una sola Inutile Ole Morto Yes Ci prendiamo anche Sto oggettino E un altro Armor 7 Quello dei prigionieri Ve lo mostro subito Bellissimo anche questo Molto molto particolare Tra l'altro Lui vede Attraverso Stagrepa nel vaso Stiamo facendo Il percorso Al contrario Quindi siamo risaliti Dal demone centipede Fino alla parte alta Dove In teoria qui C'è il lago di lava E c'è Scarica infinita No? 10 Chinders Remains E guardate Che figata Ragazzi Molti M'hanno detto Che è la chiesa Che è la chiesa Che è la chiesa dei gargoyle Purtroppo non ci si può arrivare Vi faccio vedere dopo Quindi Prendiamoci questo Altre anime Prendiamoci Prendiamoci anche Sto oggettino E qua sotto Non so Non so quanto faccia male Non viene Stare nell'altra forma Porca Quanto M'ha levato Schiviamo Devo stare Attentissimo Non so quanto Gli sto togliendo Perché Avrà la barra Degli hp Più in alto È morto Yes Ok 2000 2000 anime Questa roba qua A me era spuntata Da tutta altra parte Quindi è un verme È una sorta di mini boss Che infesta Tutta sta zona qui Ok Volevo mostrarvi Questo qui Il Tachi Una bellissima katana Che fa 500 Insanguinamento E scala benissimo In Destrezza Ora Io la mod Non la sto giocando Per la prima volta Se state guardando Questo video L'ho giocata in live Ieri sera In teoria Però Mi si è rovinato Molto il mood Per via Della connessione Che è cascata Mi sono disconnesso Tipo 5-6 volte Quindi Triggerato da quello Triggerato dalla mod Che comunque Non ti dà difese Lo scudo che sto utilizzando Regà Per quanto bello Possa essere C'ha 50 Riduzione del danno Tutti gli armor set Danno 1-2 Quindi tu sei Veramente Fragile Come un foglio Di carta Sotto la pioggia Questa combo di eventi Io che mi disconnettevo E la mod Che dopo diventa Molto più difficile Non me ne ha fatto godere A pieno Quindi ve la sto riportando Con un pochino più Di consapevolezza Sul canale Ve la mostro per bene Perché è molto Molto carina Io Aspetterò la sua Full release La sua uscita A pieno Dovremmo aspettare Dopo Elder Ring E speriamo che non Tardino troppo Allora Sotto questo punto di vista Elder Ring Se vogliamo includerlo Se la mod fosse uscita ieri Avrebbe Già avuto un sacco di persone Che la tenevano sott'occhio E l'avrebbero giocata Ora Farla uscire dopo Elder Ring È un problema Perché il pubblico I souls Che sono interessati Ovviamente a questa mod E ad Elder Ring Giocheranno ad Elder Ring Perché ci sarà quello Per tanti tanti mesi Quindi le cose sono due O esce dopo Elder Ring E se la scaricano Però il pubblico È focussato su Elder Ring E quindi questa Questa mod Riceve poco riscontro Poco feedback E se la cagano in pochi Oppure la fanno uscire Dopo tantissimo tempo Dall'uscita di Elder Ring In modo che Diciamo L'hype iniziale È passato E la gente Va a vedere anche questa Se la va a cercare Il meglio sarebbe stato Farla uscire Appunto Al posto della demo Il 21 gennaio Perché c'era Esattamente Un mese Dall'uscita di Elder Ring E quindi tutto il tempo Per provarla Non c'è scarica infinita Ragazzotti Ci troviamo Negli eventi Dopo La sparizione di scarica Però Ci sono queste Le viverne Del caos Schinnate in maniera Diversa Voglio proccare Il sanguinamento Ma 344 È fortissima Sta cosa Eole Due anime E Carving fork E un brusso extract Che sembra Quell'altro oggettino Che già conosciamo Non mi viene il nome La benizione divina Allora Questo oggetto È molto particolare Ha un doppio effetto Ci incrementa i danni Fatti Ma anche ricevuti Quindi se io Dovessi utilizzarlo Farò molto Molto più danno Però Devo essere Precisissimo Nelle mosse Perché se prendo Un hit Muoglio Sicuramente Complici anche L'armatura Che non dà difese Sicuro Se metto anche Quello Che mi fa prendere Più danno Ci crebo All'istante Ora qui saliamo E sapete bene C'è l'arena di Quilag Eccetera C'è un piccolo taglio Questa è la prima zona Che i modder ci hanno voluto Fare esplorare Qui hanno unito E ci hanno messo Il giardino Radice oscura Guardate anche L'effetto L'immagine Al centro Cambiata Questo giardino Nasconde Belle sorprese Quindi tutto Il set Di pelliccia Dei gatti Quelli Quelli Cicciotti Che troviamo Più in alto Quelli oscuri No fastidiosissimi E' bellissimo Come set Come arma Troviamo Il cannabo Che fa pure Questo 500 Di sanguinamento Allora Una cosa Che volevo mostrarvi E' il deflect Guardate bene Sentite meglio Deflect Alla Sekiro Non ho capito Ma dopo 5 deflect Il mostro Va In repost Non si può Far repost A questi mostri Di base Con questa animazione Si Tocca Capir meglio Come funziona Però Penso che bisogna Aspettare la release Ufficiale La release completa Per capir meglio Come Come funziona Questa feature Qui siamo sul ponte Della viverna Ed appare La viverna Che si va a rintanare Là dentro Bellissima Bellissima Ho detto ponte Della viverna No ponte Della farfalla Ok Vedete che creano Delle pozze di lava Però lui si è spostato In avanti Devastante Devastante Quindi lui si è andata A rintanare Lì Ok Raggiunta la cima Allora ci aspetta Lei Piano 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 E qua si casca Ole Morta Possiamo prendere Un'anima E il ricettacolo Di Artorias Questo qui è molto Importante Una feroce Presenza Senza nome Ha preso piede Nella foresta Lì in basso E quindi noi dobbiamo andare Dove di solito C'è la foresta Di Albina Eccetera eccetera Con l'oggettino di prima Apriamo qui E si passa avanti Allora Allora Ci sono due vie Per affrontare Questa foresta O si passa da qui Col cimiero D'Artorias O si fa tutto il giro Di base è così Anche nel vanilla Io non vi farò vedere Questa parte Perché si raggiungono Dei piccoli ciechi Tranne Forse qualcosina Nel lago Vi faccio vedere dopo C'è un oggettino Se non sbaglio C'è però Una scala Che ci porta in alto Ve la faccio vedere Da sopra ragazzi Per il resto Sono tutti piccoli ciechi Sapete che da lì Si raggiunge La forgia di Andre Che è chiusa Non ci si può andare In questa demo Si raggiunge La valle dei dragoni Che è chiusa E non ci si può andare E si raggiunge Anche la torre di Abel Che indovinate un po' È chiusa Quindi sono tutti piccoli ciechi A meno che Non vi faccio vedere Qualcosina appunto Nella Nella Nel lago Dopo ci passiamo Per adesso Andiamo verso Questa zona Che abbiamo sblocchiato Questi sono tutti Mostri del DLC Fastidiosissimi Andiamo dove Ci sarebbe dovuta essere Alvina Non c'è niente Troviamo altre Magie da lanciare Ecco Un cane Tacchere E tacchere Funghetti Funghettini Allora vediamo Se siamo fortunati Raga Questi funghi Quelli più grossi Di base Si hanno mantenuto I drop Questi droppano La resina dorata Quindi Abbiamo un pochino Di fortuna Un procca sanguinamento Ci vuole parecchio Se ho fortuna Me ne droppa una Yes Addirittura due Buono Queste ce le mettiamo Alcuni mossi Sono velocizzati Mi pare anche loro I funghetti Piccolini Però Niente di preoccupante Forse pure questi grossi Questo se mi prende Mi sciotta Ve lo dico Hidden presence The magia Ci sta dando Sempre le stesse Quindi noi siamo Velocissimi E questa cosa Ci rende Estremamente Guarda il danno Ci rende Estremamente potenti Però allo stesso Momento Vedete quanto Siamo fragili Raga Vabbè che questi funghi Fanno male di base Però ne fanno Molto di più Per via dell'armatura Che non ci protegge Per niente Non mi metto neanche A pararli Perché lo scudo Che protegge al 50% È una presa in giro Possibile non morire Non è possibile E niente Eh questo è il problema Raga È l'unico problema Che riscontro In questa demo E ve lo dico Sinceramente Non mi piace È l'unica cosa Che non mi piace Le armature Non proteggono Ma neanche un minimo Sei letteralmente Protetto Dal niente Sei nudo Allora Non stiamo parlando Di una mod Che Fa del suo Grande punto Di forza La sfida Quindi non è una Una mod come la Che ne so La champion ashes O la Scorsed contract Se le conoscete Sono mod che si basano Sull'essere esperti Del gioco E saper Giocare Molto molto bene Per il livello di sfida Proposto Questa no Questa dovrebbe essere Qualcosa che si basa Sulla trama Con un livello di sfida Ovviamente Però più che altro Sulla trama Sull'avanzamento di trama Rispetto al gioco normale Quindi non capisco Una cosa che vi chiedo Anche a voi Il motivo Perché hanno fatto così Non capisco Perché le armature Siano settate Su livelli di difesa Pari a Quasi a zero Perché hanno deciso Di settare le armature così Capisco che Le nostre armi Sono un pochino Sbilanciate Nel senso Io faccio un sacco di danno Con qualsiasi arma Vi sto facendo vedere Magari Fammi fare meno danno Ma rendimi Un minimo Resistente Non fare che sono Un Prevento Un glass cannon Non fare che in modo Che io faccia Tantissimo danno Ma sono resistente Quanto Un bicchiere di carta Ok Ci siamo presi il falò Saliamo ancora Un pochino di livello Si può fare? Yes E saliamo Di vitalità È la statistica Che ci aiuta di più Appunto per sto discorso Che abbiamo fatto Delle armature Ole Vai Mettiamo solo un punto E si va avanti Ora ragazzotti Preparatevi Preparatevi Perché qui C'è la più grossa Sorpresa E il pericolo Più grosso Di questa mod Guardate la spada Non la riconoscete E avete ragione Spawnano loro La prole Del black dragon Del drago oscuro Guardate che belli Sono dei piccoli Lupi Cani oscuri Con il terzo occhio Di calamit Che imbracciano Non riesco a capire Una lama Una lama Di fuoco Non si capisce Demoniaca Bellissimi E dobbiamo combattere Sti tronzetti Sparano anche Delle spell D'oscurità Quindi bisogna Farci attenzione Forse questa Non è l'arma migliore Sapete Proviamo Che ne so Proviamo qui Sono tre Quindi bisogna Toglierne Pian pianino Uno alla volta No Via 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 Ok Uno è andato Muore esattamente Come Sif Hanno Movenze Simili a Sif Ma sono Molto più veloci Vai Ci si cura E niente Ok Vieni Vieni Quando ne muore uno Continuano a spawnare Le sue copie Oscure Quindi continuano Ad esserci questi Vedete Ne è spawnato un altro Sono infiniti Quelli rossi Sono infiniti L'obiettivo Ragazzotti È tirar giù Quelli normali Però Starma Qui non mi convince Come ha Predictato Lit E qui Iniziano i dolori A livello Di modello 3D I lupi Sono stupendi Veramente Fighissimi Però sono Devastanti Devastanti Stiamo lontani Ce ne serve Uno alla volta Suo calcio Suo potete Risparmiare Dai Ok Preso Ok Preso in affondo Dobbiamo giocare Su questo Sulla velocità Preso No No Ho fatto il dash Davanti Ok Piccolo regen No Perché l'ha fatto In avanti Preso Quelli rossi Ragazzi Quelli rossi Sono molto Più deboli Però fanno Fanno lo stesso Danno Ora io devo Curarmi Quindi Devo mettere Un attimo Da parte Scappa 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 Ok Una Rimane L'ultimo Sono gli attacchi Di Sif Devo ritrasformarmi Uh Ok La sorpresa più grossa Raga Calamity Wolf Yuria Yuria Come cacchio si chiama Guardate che bello Un lupo Oscuro Guardate che spada Che prende Il potere Di Calamity Non ho idea Di che cacchio Gli sia successo È bellissimo E I phantom rossi Immaginate un po' Rimangono È velocizzato È speedappato È pericolosissimo Urca Ok Qui è molto Toccata e fuga Dobbiamo giocarci Cela magari anche Con le bombe L'ho fatto E muoio 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 Guardate che bello Che è È pure Sfreggiato Qui C'è un assurdo Regen di stamina Non so se ci avete Fatto caso Finora Serve appunto A gestire Tutte queste Nostre Novenze Porca vacca Che male Che male che M'ha fatto Ok Ci si cura Peccato per L'animazione un po' Lenta di trasformazione Rompe un pochino L'equilibrio La velocità Gli faccio male cane Ma se mi prende Mi distrugge Ovviamente Tra le mosse di calamit C'è anche questo Il debuff Che ti applica Addosso Schiva 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 Il soffio Il soffio Il debuff Che ti fa prendere Il doppio del danno Raga Pauroso Pericolosissimo Il problema È che Sto lupo Malefico Infamissimo A parte Distrugge Ah questo Non lo sapevo Distrugge I suoi minion Che continuano A respawnare Ve l'ho detto E che ti salta In testa E mentre Si avvicina Quindi accorcia La distanza Di tirare il soffio Di calamit E c'ha l'hitbox Di New York Ottimo Che l'isciotto Ottimo Mamma mia Uh Morto Regà Regà Vi giuro Vi giuro Abbiamo trovato L'arma migliore Per sto fight Ora ragazzotti Vi assicuro Sono stato fortunatissimo In live Ho bestemmiato Qualsiasi santo Perché non ci riuscivo Non lo capivo Sto sconto Sto giro Mi è andata molto bene Tra l'altro Se volete passare In live Avete il link In descrizione Ora La cosa Che mi preme Farvi capire Non possiamo raccogliere Quest'anima Vedete Perché non abbiamo Il contenitore Per raccoglierla Dobbiamo sacrificare Questa La dobbiamo Usare In teoria Il contenuto Va buttato Tanto non hanno Utilizzi Queste anime Nella demo Purtroppo E possiamo raccogliere Quest'altro L'anima di Guira O come si pronuncia Eccola qui Quindi Assimilando L'anima di Guira Abbiamo acquisito Anche qualche Piccola informazione Nella parte centrale Quindi Molti fantasmi Hanno fatto Ritorno Dall'abisso Ma pochi Incitano Così Tanta paura Quanto Guira E la sua Eredità Di calamità Quindi lui Non si sa come Non si sa in che modo Abbia Ereditato La potenza Del drago Nero Calamith Lui E la sua Cacchio Di prole Dallo spawn Infinito Però è andato Giù Quindi sono Contentissimo Ora C'è la possibilità Di continuare A vedere Altro Sette Sinders Sono rimasti Va bene Abbiamo del tempo Toccando Questa spada Congelata Però Aspettate Conviene Utilizzare Le anime Tra l'altro Una piccola cosa Che ho notato E che qui Dietro La tomba Appare Uno scheletro Uno scheletro Di quelli Della Della tomba Dei giganti Che istantaneamente Esplode Su se stesso E quindi Noi troviamo Soltanto I resti Vedete Le ossa intorno Non ho capito Il perché Forse se lo magnano I cani qua dentro Il loro pasto Ora Torniamo un attimo All'ultima fonte Che abbiamo sbloccato E poi Riveniamo qua Saliamo di livello Ancora vitality E prima di toccare La spada Andiamo a vedere Che c'è nel bacino Dove sta l'idra Così vi mostro Praticamente Per completezza Tutto Tutto quello Di interessante Poi ve l'ho detto Molte parti Di questa demo Hanno Dei vicoli ciechi Chiusi Dove non ci si può Accedere Ecco Questo è un oggetto Molto importante Tutto il set Il set Dell'armatura Abbracciata E uno scudo Che non posso utilizzare Perché richiede fede Che c'ha 25 In difesa fisica Mamma mia Che schifezza E l'armor set Meramente estetico Che era quello Che vi ho mostrato A inizio A inizio video Di Karim Eccolo qui Guardate che figo Con un'arma Vi faccio vedere Tutto a sto punto Con un'arma Che ricorda L'oblige Di Demon's Souls Se non sbaglio Questa sarebbe Devastante Da utilizzare Fichissima C'è soltanto Questo oggettino qua Ve lo sto dicendo C'è l'entrata A quel castello A quelle mura Ovviamente Muddate Inserite lì Che è sbarrata Dalla nebbia Gialla Quindi non ci si può andare E' zona chiusa Quindi c'è soltanto Polvere di Sky E di Drago E laggiù mi pare Che ci fosse Qualcos'altro Diamo un'occhiata Visto che questi Armor set Oltre a non dare difesa Pesano 0.3 Quindi pesano Veramente nulla Le cose più pesanti Sono le armi Per adesso E se siamo più pesanti Secondo voi Si manterrà Successivamente Questa tipologia Di dash O si Andrà nel mid Nel fat Eccetera Eccetera O ci sarà Magari un dash Differente A seconda del peso Perché così Siamo Veramente 9.8 Su 59 Quindi peso più Ma Eccola qua Il set Con cui siamo partiti Lo troviamo qui Fighissimo Questa mod Nasconde Anche nella demo Tantissime sorprese Ha delle Grosse Enormi Potenzialità Purtroppo Nella demo Per me C'è questo Piccolo neo Delle armature Che non proteggono Per nulla Quindi Ve l'ho detto Siete fortissimi Ma anche Deboli Per quanto riguarda Le difese Quindi devi giocare Praticamente Da intoccato E non tutti Riescono a giocare In quel modo Magari Questa mod La scaricherà Qualcuno di voi Che gioca In maniera tranquilla Per divertirsi E non riuscirà A vedere tutto Proprio perché Ha questo Assurdo Livello di difficoltà Dovuto alle armature Che non proteggono E non ne capisco Il motivo Perché la mod Come avevo detto Prima È improntata Sulla lore Non sulla Difficoltà Sulla sfida Sulla challenge Quindi Magari Qualcuno Non riuscirà A vedere Questa figata Tocchiamo La spada Non c'è caricamento Accade Tutto All'istante E davanti A noi Abbiamo Il frozen saint Il santo Congelato Ghiacciato Bellissimo Raga Anche L'ost Spettacolare La cosa Particolare È che Noi Lasciamo Impronte Di scarpa Lui Lascia Impronte Come se Fossero Piedi Direttili Vedete Guardatelo In basso Non riesco Ad intuire Che cosa Sia Sinceramente Dalla faccia Non riesco A capire Come sia Formato Se abbia Un elmo Se sia Il suo Volto Dobbiamo Giocarcela Bene Qui Quindi Trasformiamoci E qui Siamo Piena Velocità E giochiamoci Con la Katana Non si Può Né Perriare Né Ripostare Aia Fa malissimo Il danno È minore Quindi Ipotizzo Che sia Molto Più Forte Rispetto Ai Lupi Di Prima Guarda Il danno Ah C'è una Bella Gittata Non Sembrerebbe Non Sembrerebbe Quindi Secondo Voi Che cos'è Un Pennuto Non riesco A capire Se abbia Le zampe Da rettile O Da Pennuto Rapace Delle volte Si gira Veramente Male Secondo Voi Possiamo Usare Questa Per Pararci Un attimo E fregarlo Così L'ambiente Sta funzionando Croccato Via 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 Curiamoci Veloce Tomba In mezzo Vai In altra Curetta Ok Abbiamo capito Abbiamo capito Raga Ma poi abbiamo capito Chi sto a giocare Da solo Bomba Eh Ah C'è pure Un piccolo Saltello Sguazzaci In mezzo Oh Mio Dio Ci ho Lasciato Dentro Via 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 Sta nube Fa malissimo Oh Oh Vai Bomba Skaia Raga Skaia Veloce Però Devo andarmi a cura Ho paurissima No 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 ragazzi Ha fatto un doppio affondo Ma fregato Ah Non ve l'ho mostrato Raga Ma c'è Non so definirlo Se è un dual Vedete Così para E combatte Normalmente Non ci sono animazioni In dual Almeno Almeno che Siano nascoste Che io non ho scoperto Quindi Io non le ho trovate Però L'L2 Fa questo Vedete Quindi questo Sembra un attacco Fatto in combo L'L2 Quindi possiamo Provare pure A sta così Vediamo un attimo Il danno Faccio un test Veloce È velocissimo Bello Raga Madonna Ma è tanto Veloce Non consuma Niente De stamina C'è anche Una buona Gittata Mamma mia Un soffio Ci è mancato Daie Daie Lo finiamo con la bomba Vai con la bomba No Vai con la bomba 2 L'ha schivata Maledetto Ma su attacco Ha fatto uno swing Mai fatto Ma che se ne accorge Quando mi curo Ma che se ne accorge Fiore rosso Porca vacca Raga Manca poco Non ci arrivo mai Un soffio È mancato Pergamena Del valore Ok Vediamo un attimino Avevo finito Tutto Tutto Allora ragazzi Abbiamo preso La pergamena Del valore Che è Praticamente Il ringraziamento Dei modder Per aver giocato Siamo contenti Che ti sei divertito Anzi Speriamo che ti sia divertito Con la Dark Souls Nightfall Facci sapere Che cosa ne pensi Attraverso L'internet Continuando anche Ad esplorare Quindi questo è Diciamo Il simbolo Che abbiamo Concluso La demo Questo era un boss Non so se considerarlo Segreto Ma raggiungibile Dopo il lupo Della calamità Quindi non in maniera Easy easy E ci dovrebbe essere Toccando La tomba Qui Il modo di ritornare Indietro Io sono morente Vediamo È bellissimo Che sia tutto Istantaneo Non ci sia caricamento È un cambio Assurdo E c'è l'anima Del boss Che abbiamo ucciso Quindi Se noi andiamo a usare Sprecando Quella del Del lupo Guira Della lupa Bisognerebbe capire Possiamo raccattare Questa Vediamo che ci dice Ok Niente di particolare Semplicemente Che l'anima All'interno Di questa bottiglia Sembrerebbe Ancora Anzi Sembra radiare Calore Ma la bottiglia Il vetro Della bottiglia È ancora congelato Quindi è molto strano C'è poca lore Magari queste anime Andranno trasformate In altro Bisognerà vedere Però credo Che la demo Termini qui Abbiamo visto Tre boss Tutti e tre Ovviamente Moddati Nei modelli E anche nelle animazioni Soprattutto Bellissimi Bellissimi Fatemi sapere Chi fra questi tre Il demon iniziale I vari lupi Lupo della calamità E il pred Congelato Alla fine Vi è piaciuto di più Il santo congelato Vi è piaciuto di più Fra questi tre Ovviamente Nei commenti La nightfall demo È veramente Un piccolo assaggio Di quello che poi Spero sia Un progetto Molto 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 Ben curato Quindi Mi son divertito Tantissimo Fatemi sapere Che cosa ne pensate voi Di questa demo Se l'avete provata Ovviamente Vi lascerò il link L'installazione Una scemenza Per scaricarla Sotto nella descrizione Fatemi sapere Se vi è piaciuto Il video Sono estremamente Estremamente Curioso Di vedere La release Completa Di questa mod Aspettiamo E vediamo Che cosa succede Io vi ringrazio Per la visione Vi mando un bacione Se volete Comunque partecipare Anche alle live In cui ho giocato Questa mod In blind Praticamente Qualche sera fa Passate anche Sul twitch Trovate il link In basso In descrizione Al prossimo video E alla prossima live Ciao 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 ciao